E' stata sicuramente una bella avventura, un cantiere impegnativo, un cantiere a cui si accede solo mediante trasporto aereo con l'utilizzo di elicottero, quindi diciamo che materiali, mezzi d'opera e maestranze potevano accedere al luogo di intervento che vedete tra le mie spalle solo con l'utilizzo di elicottero, peraltro onde evitare i rischi connessi al maltempo di rotazione quotidiana, ci siamo orientati per una cantilizzazione che consentisse addirittura di poter pernottare in quota, quindi con baracche ad uso dormitorio e cucina, in modo da dare maggiore continuità alle lavorazioni e riuscire anche a concludere l'intervento in tempi che sono stati poi a lato pratico più brevi di quelli previsti. Da un punto di vista tecnico, come vedete, qui siamo alla sommità del bacino di stacco della valanga del Siet che interessa il villaggio Ardua, le opere che abbiamo realizzato hanno la funzione di trattenere il manto nevoso da questo bacino, che è un importante bacino di accumulo e evitare che il manto nevoso, una volta rivenuto instabile, generi la valanga che possa poi raggiungere il fondo valle. Le opere sono opere di ultima generazione, le cosiddette strutture ombrello monancoraggio che hanno svariati vantaggi, non ultimo quello di avere un solo punto di ancoraggio e quindi sostanzialmente con la possibilità di collegare l'opera al terreno con un numero molto più ridotto di fondazione e quindi con impatti anche sull'ambiente in cui siamo intervenuti molto minore. Oggi siamo qui proprio sul luogo, sul posto dove sono stati fatti questi lavori. Diciamo che la zona sopra al villaggio d'Ardua, storicamente ci sono degli atti anche storici d'inizio del Novecento che riportano il fatto che ci sia di questo pericolo di valanghe. Da anni la nostra valle aspettava questo intervento e diciamo che l'accelerazione si era avuta nel 2008-2009 quando a seguito delle forti nevicate l'amministrazione di allora aveva proceduto a fare un primo studio di fattibilità per mitigare questo rischio. A seguito sono stati fatti delle richieste di finanziamento in Regione e al Ministero. Nel 2021 finalmente c'è stato lo sblocco delle risorse da parte del Ministero dell'Interno per una cifra di 550 mila euro. Queste cifre sono state subito gestite nel nostro ufficio tecnico, ringrazio il geometra di Isio e tutto lo staff del Comune perché è stato fatto un lavoro molto sbrigativo e molto rapido. Trattando un intervento importante ma sicuramente come priorità quello di ridurre il rischio valanghivo e mitigare questo rischio. Però assolutamente è stato fatto e inserito nel contesto in cui siamo, siamo nel contesto dell'Alta Valle Peseo e del Parco Naturale quindi era importante anche utilizzare materiali e tipologie di intervento consone all'ambiente. Infatti potete vedere anche la colorazione di questi interventi e anche l'utilizzo di legno e sono state anche piantumate alberi, faggi e rovere per far sì che questa vegetazione che in futuro crescerà possa essa stessa contribuire a ridurre e a mitigare il rischio valanghivo.